Allora dunisiani oggi faremo questo video dove praticamente non dobbiamo prendere danno per nessun motivo al mondo E si lo so che l'hanno già fatto in molti un po' di tempo fa ma lo volevo fare anch'io perché secondo me è un bellissimo video da fare E avete visto che vuoi l'armatura in diamante e infatti in questa in questa modalità diciamo non possiamo assolutamente tenere alcuna armatura addosso E porca miseria c'è l'albero spizzo qua vedete questo è l'albero spizzo porca miseria lui è arguto lui sa lui infatti mi dirà eh mi dirà quando ci sono i mostri quando stare attento e quando no L'albero spizzo là come caspita si chiama lo potete vedere anche qua di fianco no a me qua c'è strizza la pizza come al solito invece qua c'è l'albero spizzo molto bene Allora quello che dobbiamo fare semplicemente è andare in giro senza prendere danno cioè vabbè andare in giro nel senso ovviamente E cercando no un po' di stare attenti no a tutte queste cose no di cercare anche no di fare un po' di vanilla Non entriamo nel nether perché sennò finisce male però però ho creature eh dunisiani sarebbero In questo video non farò proprio tagli cioè almeno ci proverò Perché voglio far sì eh voglio far sì che Sia il più veritiero possibile che sia un porca miseria una cosa che voi dite oh mio dio sì che bello cioè è stato proprio fatto Veramente questa cosa infatti dunis non è che ha fatto un taglio e poi magari aveva preso danno no No io sto sentendo rumori fuori dalla finestra ecco questi sono i momenti in cui dovrei fare tagli ma in questo video niente tagli Sta cadendo un aereo forse può darsi no cioè voi ovviamente no cosa cos'è che succede no cioè quando the dunis registra succede la fine del mondo La terza guerra mondiale arrivano gli alieni ci conquistano la terra epidemia zombie e tutto quello che volete Però l'importante è dare fastidio a dunis quando lui registra l'importante poi dopo per tutta per tutta il resto della giornata e la pace manca il paradiso no Guardate facciamo finta di niente Allora all'ora però Qua c'è la palude questa palude è immensamente bella perché nasconde dei segreti Pazzeschi eh quali sono questi segreti pazzeschi Non ne ho idea proprio boh non so però ora che ci penso scusate ma sei giorno cioè è troppo semplice Mi sarei tentato a fare un taglio tipo nel mezzo del video per per tipo schippare per la notte no Non so se avete capito cioè nel senso che praticamente andare nella notte no così almeno diventa più difficile perché sennò vabbè di giorno che caspita fai Cioè sei stupido sto per dire una brutta cosa ma non la dirò sei stupido eh se si butti qua e allora sei stupido Prendi danno metà cuore però è perso e niente Ah comunque visto che devo chiudere il video praticamente appena appena finiscono Cioè ovviamente devo chiudere il video appena prendo danno pum chiuso il video eh Praticamente io vi dico già ora iscrivetevi al canale Mi raccomando io vedo un sacco di voi che si stanno iscrivendo però c'è ancora un'alta percentuale che vede i miei video ma che non si iscrive Ma assolutamente ma vi ricordo di iscrivervi perché è molto bello il canale di dunis farò un sacco di altri bei video e così non ve li perderete Eh scusatemi eh Eh buttali via i video di dunis No come ti permetti di buttare Ma io veramente chi è stato a dire questa cosa? Ma mi sono offeso da solo Eh beh sapete che è proprio una cosa che non si fa Oh come ti permetti dunis di offenderti da Ma porca miseria mi do uno schiaffo che me lo ricordo fino alla fine dei tempi sai Ma puzzone bu Vabbè Ok Eh a parte la mia rincoglio Eh volevo dire A parte la mia stupidaggine eh Eh oh mio dio ma guarda che bello qua scusate No scusate mi sono fermato per un attimo perché qua c'è un È bellissimo Oh mio dio Questi rumori sono proprio molesti però Qua c'è il mare no? Praticamente qua c'è il mare e qua porca miseria è bellissimo cioè è come se fosse un cerchio perfetto Ma non è che è poco poco eh è entrato in Ma no dai su Io sono paranoico ormai cioè praticamente vedo invovunque È diventato un incubo per me Allora signora mucca lei ha visto qualcuno qua nei paraggi? Eh mi racconti della sua esperienza con quel hacker schifoso eh mi racconti? Ah capisco Mucca la palla si chiama lei Ah ha detto che si chiama mucca la palla e che ha visto Ha visto un signore che scavava qua Ma chi ha visto? Ma scusi ma come si permette di dire queste bagianate? Ma lei è proprio antipatica guardi Ah mi vuole uccidere Aiuto No non le farò mai più non le darò mai più un pugno Scusi signora mucca Mai più un pugno giuro le prometto mai più un pugno Allora Cerchiamo di mantenere la voce salda però perché altrimenti poi dopo la mia gola mi dà gli schiaffi da sola Però però io direi che a questo punto direi di fare un taglio eh e di schippare alla notte Dove arriverà l'incubo di Dunis Dunisiani Oh no È arrivata la notte della fine dei tempi La notte della notte Porca miseria dobbiamo svegliarci Dobbiamo subito scavare qualcosa qua sotto Non possiamo permetterci di morire O comunque di perdere vita Perché poi dopo cos'è che succede? Dunis per rendere danno Allora voi sapete qual è la mucca rosalina no? La mucca si racconta? Adesso ve il racconto La mucca rosalina è una mucca Che decise Di essere un assassino Questa mucca era veramente veramente molto inquietante Perché faceva delle cose Quando era da solo con i suoi mucchettini piccoli Faceva brutte esperienze insomma Non so se ci siamo capiti La mucca faceva Eh? Cose brutte Porca miseria Non mai Mai Affidarsi alla mucca rosalina Perché era una mucca pazza Come la malattia Voi sapete che c'è la malattia della mucca pazza Eh? Quella Praticamente la mucca impazzisce E diventa tutta quanta pazza E urla tipo Va in giro ad urlare Scherzo ovviamente non è questa Non prendete per vere le cose che Le cavolate che dico eh Perché ovviamente Non sono vere queste cose Sono semplicemente false Però Dobbiamo stare attenti Perché qua potremmo trovare Oltre che agli zombie E agli scheletri Avete visto vero? Là c'era uno scheletro mi pare Peccato che voi non stiate vedendo nulla Oltre agli zombie E gli scheletri Potreste Imbattervi Nella mucca pazza La mucca pazza State attenti Mi raccomando Là fuori Non Mettete il piede fuori dalla casa Di notte Quando c'è la mucca pazza in giro Potreste pentirvene amaramente Adesso però vado a prendere subito queste cose Perché io ho deciso di scavare questa cosa Ma chi mi ha detto di fare con questa cosa? Io devo andare in giro Stare attento a non prendere danno Eh? Stando attenti a non morire No Mi sto cagando addosso Perché se finisce il video Non voglio che finisca così presto Eh? Allora Perché non state vedendo un cappero di nulla Devo tenere Tenere dove? Le torce Le torce Forza No Altre torce Se adesso arriva uno zombie O uno scheletro Mi ammazzano completamente Allora sto tenendo Però non si vede un pif però Ehi 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 Assolutamente no Assolutamente no Non starò qua A farmi Farmi prendere danno Porca spizzola Oh mio dio allora Mi sto cagando addosso Porca miseria Però tranquilli che adesso Dunis ci pensa lui Ci pensa Dunis eh Ci pensa Dunis Non osare Non osare Brutto schifoso Vai via Hai visto hai visto Dunis Dunis riesce ad uccidere Eh la Madinu La Madinu Eh no che schifè No Dunisiani Dunisiani No allora No per favore no Per favore no 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 Non so se avete capito Lo zombie era bloccato fra la porta E poteva entrare in casa Se voleva Se voleva lui poteva entrare in casa Però era successo un casino Ho premuto tipo qualcosa di strano Ed era sparito il gioco per un secondo Però non lo farò mai più Allora Giuro che non ho preso danno L'ho giurato Per ora non ho preso danno Quindi Quindi tranquilli eh Allora Qua ci sono gli zombie Ma come facciamo ad uscire Non è che possiamo aprire la porta Perché sennò ci entrano dentro In tutti i sensi Non solo in casa In tutti i sensi Quindi Ed è brutto Vabbè Lasciamo per In tutti i sensi Quindi praticamente Cosa che dobbiamo fare qua Dobbiamo scavare E cercare di Di trovare una strada Da percorrere Eh In modo più astuto No noi dobbiamo essere più intelligenti Degli zombie Perché quelli là Sono stupidi Eh Non c'hanno il cervello Per forza Sono stupidi Ehi Io non mi fido eh Non mi fido affatto Affatto no 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 Eccoli qua Li vedete E beh ma Dunis Dunis è esperto di queste cose Dunis non si fa mica fregare Dunis Dunis è bravo Eh Dunis è bravo Ho detto Porca miseria Eh Per favore No Vai via No guardateli Sono tutti qua Sono tutti qua Porca miseria Sono tutti qua Incredibili Oh zombie Vai via Sai Non ti permettere minimamente Di Di farmi Un singolo cuore Di danno Perché se no Finisci Altro che mucca pazza Altro che mucca pazza Lasciate like Commentate Se siete arrivati Fino a questo punto del video Con carne marcia Eh Quella dello zombie schifoso E Perché io Prevedo che Adesso No Prenderò danno Perché adesso uscirò E sicuramente Qualcuno Mi ucciderà Se non succederà questa cosa Sarà tutto bello E tutto meglio Anche Però Non posso più restare in quella casa Ehi Ehi Non ti permettere Sai Scappa 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 immediatamente Non ti permettere mica C'è il ragno Avete visto Dunisiani Dunisiani Dobbiamo scappare Dobbiamo scappare immediatamente Cercare di non farci prendere Eh Sono È proprio qua dietro Allora Dobbiamo stare attenti Perché qua ci ammazza Cioè io ve lo dico Ci uccide E c'è pure lo scheletro No lo scheletro è pericoloso Lo scheletro Quello là ci arriva pure Da 30 metri di distanza E ce lo spara Proprio dove non batte il sole Parlo della freccia Eh Non pensate Eh Perché sono scheletri Più che altro Eh volevo dire Ah C'è l'albero Spizzo Spizzo Tu Sai dirmi qualcosa Hai visto qualche mostro Qua in giro Eh Dimmi un po' Penso Di dover chiamare Uno psichiatra Perché probabilmente qua Mi servirà Eh albero spizzo Dimmi Ah Ah Uh Ha Addirittura Ha detto L'albero spizzo Ha detto Che praticamente Ci sono Le veci Non so Ha detto così Non chiedetemi Cosa vuol dire Boh Sarà Sarà una lingua strana Che non capisco affatto Perché figuriamoci se capisco Però forse intendeva i mobs Vabbè ok albero spizzo Questo l'avevo visto anch'io Grazie della tua Intelligenza eh Allora c'è un creeper qua Proviamo ad affrontarlo eh Affrontandolo Riusciremo a dimostrare Non osare Mi sto cagando addosso Perché questo Ci può uccidere Non solo farci un mezzo cuore di danno Eh Vabbè Allora Io ho paura Però direi Scusate Posso dire che questa sfida L'abbiamo superata Alla grande direi Cioè nel senso Siamo qua fuori Porca miseria Cioè Nel senso Questa parte Addio